...dell'Ampi dell'Ampi 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 della nostra provincia. Io mi limito a una considerazione e poi a un impegno che a nome dell'Ampi noi prenderemo. La considerazione è questa. Noi veniamo accusati spesso, in maniera anche un po' colgarotto sinceramente, di aver trasformato una vicenda giudiziaria in una vicenda politica. Io dico che non l'abbiamo spesso, in maniera anche un po' colgarotto sinceramente, di aver trasformato una vicenda politica. che mi puoi ricordare solo una scuola.